Quindi, facciamo, eh adesso vedrete perché le ho scelte, facciamo le top 5 carte più sopravvalutate di Modern Horizons 3 per historic, ovviamente le 5 carte che fanno più emozionare i cartanuovisi di tutto il mondo, ma che secondo me sono carte sopravvalutate, e adesso ve le andrò ad evidenziare la top 5 e vi dirò anche perché, secondo me, sono sopravvalutate. Ovviamente voi in chat non sarete d'accordo, se no non sarebbe una cosa controversa, quindi scrivete, offendetemi, scrivete che sono pazzo, e fa proprio, anche su YouTube nei commenti, dite ma che cosa sta dicendo, ma è fortissima perché fa parte del format. Quinto posto fra le carte più sopravvalutate per historic, ovviamente, di Modern Horizons 3, secondo il mio punto di vista, è Primal Prayers. Allora, è quinto posto perché non è molto sopravvalutata, nel senso che non tutti la considerano fortissima, però è assolutamente sopravvalutata, nel senso che questa carta, a mio avviso, è una carta che non fa molto, però i cartanuovisi sono contentissimi per questo tipo di carte che non fanno niente, e quindi, secondo me, magari mi sbaglierò, secondo me questa carta è sopravvalutata, quindi hashtag cartanuovisi, Primal Prayers, non ritengo sia, per quattro mana non ritengo che l'effetto che fa, non capisco in che mazzo dovrebbe essere giocata, mi sembra una win more, mi sembra una cosa lenta di combo, non lo so, vi dico, secondo me Primal Prayers è una carta sopravvalutata, quinto posto, quindi non proprio sopravvalutatissima, però comunque si merita il quinto posto delle carte più sopravvalutate di Modern Horizon 3, per quanto riguarda Historic, e quindi non lo so, per me è questa. Quarto posto, la volevo mettere prima, questa per me la, cioè, pensando proprio ai cartanuovisi mi viene in mente questa, per quanto riguarda, però effettivamente ce n'erano altre tre che ragazzi, cioè questa almeno fa qualcosa, le altre tre non fanno niente, quindi questa, per quanto secondo me sia sopravvalutata, comunque è una carta forte, nel senso che è forte, io credo che non si giocherà in Monoverde, non credo nella storia un Mana Torca 2 abbia possibilità in un formato come Historic, giocando Monoverde, credo sia molto sopravvalutata, classica carta, la carta Nuovisti, per cui la legge, penso, è fortissima, poi però vai a considerare e dici, in Monoverde ci sono 8 Mana Torca Umana, più 4 Incantesimi, 12 Mana Torca Umana, sappiamo che il Mana Torca è molto importante che sia Umana, solo perché di terzo andiamo a fare Chiora, andiamo a fare Troll e quant'altro, questo è vero che ti dà un'accelerazione importante dopo, ma dopo spesso non serve, e comunque per andare a giocare questa devi togliere un Mana Torca 1, oppure devi andare a togliere una minaccia. Quindi, per quanto mi riguarda, Fanatic of Ronas, per quanto sia una carta forte, per quanto potrebbe qualcuno provarla e quant'altro, secondo me si prende il bollino di carta sopravvalutata come quarto posto, questa per me è a quarto posto, per Historic ovviamente sto dicendo, io parlo, questa classifica è solo per Historic, quindi magari in Modern è fortissima, magari in Timeless è fortissima, io questo non lo so, però per quanto mi riguarda in Historic, per me questa carta è una carta stra-mega sopravvalutata. Quindi, carta nuovisti, insultatemi, uccidetemi, a livello chiaramente gogliardico, secondo me questa carta qua non vedo motivo per metterla al posto di un Mana Torc a 1, cioè proprio non vedo nessun tipo di motivo, quindi, boh, non lo so, cioè, non lo so, secondo me, non è valutata, quindi, non so, volevo vedere cosa scrivete voi, questa ne bastano due che tanto fai Terminalize e puoi fare dal cimiteco, puoi scavagliere Tegracchio ora, sì, però ho capito, cioè, cosa vai a togliere per giocare questa? Un Mana Torc? Io voglio avere a 1 i Mana Torc, non voglio avere a 2 i Mana Torc, per quanto possa essere forte l'effetto, infatti al quarto posto, non è al terzo, al secondo, al primo, perché là ci sono proprio le star, però non lo so, io la vedo molto sopravvalutata, non scarsa, ma sopravvalutata, nel senso che può essere un utility, però se ne parla come se è arrivato, boh, il nuovo Troppad 2 più forte del mondo. E' solo che l'Incantesimo dei Lupi non si gioca perché è entrato il drop, l'Incantesimo a 1, quindi è quello il discorso. Non si gioca più l'Incantaterra che fa lui, perché ci sono cose più forti. E se non ci fosse l'Incantesimo a 1, cioè, io perché devo giocare un Mana Torc a 2? Ma quando mai si gioca un Mana Torc a 2? Adesso, da quando c'è ovviamente l'Incantesimo a 1. Quindi, questo è il motivo per cui, secondo me, questa qui è sopravvalutata, e di conseguenza, io la metto in classifica al quarto posto, sicuramente non sarete d'accordo, però è così. Ciao Massimo, benvenuto. È così. Terzo posto. Esatto, cioè, quello, cioè, nei fatti, sta carta, non la vuoi mai avere di secondo. Mai. Nei fatti, sta carta, sì, io proprio asforo il caro. Nei fatti, sta carta, di secondo, non la puoi avere mai. Cioè, che senso, ma poi cosa tolgo? Tolgo cosa per giocare questo serpente? Non lo so. Carta nuovisti. Secondo che questa è la classica carta dei cartanuvisti. Cioè, che la leggi, forte cose. Che maladoxa l'esceva. Comunque, questa, secondo me, si merita, si merita. Terzo posto, terzo posto, Nethergoic. Ma che serve sta carta? Che serve di storic sta carta? A nulla, non serve a nulla. Non serve a niente. Non serve a nulla. Cioè, proprio, non capisco. Cioè, ok, gli early access è sembrata forte. Gli early access, tra l'altro, è il festival delle carte nuove. Questo non serve a niente. Non capisco. A cosa serve? Non ci sono le fetch. Non capisco. Droppa uno zero uno di primo. Perché dovrei farlo? Cioè, per quale motivo? Magari sono mio per io, non lo so. Cioè, se ne parla come se fosse una carta fortissima. Io la trovo una carta molto sopravvalutata. Infatti entra nel podio delle carte più sopravvalutate. Sì, escape. Però escape, cioè, si nerfa se stessa. Perché ricordiamo che Nether Goif non è il tarmo. La tua forza è uguale al numero di carte nel tuo cimitero. Quindi sì, la rigiochi con escape. Però la rigiochi con escape e ti esili delle carte. Quindi te la rigiochi come zero uno. Non lo so. I carta nuovissima, ovviamente, su questa carta qua stanno facendo i pensieri più impuri. Sembra arrivato il messia. Però, secondo me riguarda, questa carta, in historic, poi magari in times con le fetch. Anche se dice Cliff, che fa schifo anche con le fetch. E io potrei... Parlo di historic in questo caso, quindi non lo so. Però, non lo so. A me, cioè, è veramente brutta. Questa, secondo me, è brutta tanto. Cioè, è brutta tantissimo. Poi, tra l'altro, sì, non devi esiliare quattro carte. Devi esiliare qualsiasi numero di carte dal cimitero con quattro più tipi di carta. Fra queste. Brutta. È brutto anche il disegno, diciamo. Cioè, proprio sopravvalutata al 200%, questa Nether Growth. Quindi, per me, terzo posto. Entra nel podio. Si prende il podio. Ho pensato di metterla al secondo posto. Perché il primo posto, per me, è definitivo. Ho già deciso. Ho pensato di metterla al secondo posto. Però al secondo posto, ragazzi... Cioè... Devi non aver mai giocato a Magic per dire che questa è più forte di Pity Needle. Per altri utilizzi ne possiamo parlare. Ma devi non aver mai giocato a Magic per dire che questa è più forte di Pity Needle. E visto che parlo di sopravvalutate, e questa viene pregonata da chi la sopravvaluta, secondo me, a Pity Needle, non esiste al mondo, se invece si parla di usarla per la seconda opzione, quindi ci potrebbero essere delle implicazioni, mettiamola così. Anche se anche lì non mi convince, però ci potrebbero essere delle implicazioni. Ma questa, dove giochi Pity Needle, tu non la vuoi vedere mai nemmeno di pinta. Yagmoth, perché devo giocare questa? In tutti... Cioè, contro che ti scombo, perché devo giocare questa? Cioè, in tutti, secondo me, i match-up dove giochi Pity Needle, vuoi Pity Needle. Ovviamente parlo di story, quindi poi Commander, tutto quello che volete. Commander che lo sia bannata addirittura. In Brawl è bannata. Forse... No, in Brawl è bannata sicuro. Perché ovviamente se la fai sul comandante è un problema. Quindi sì. Non lo so, cioè... Secondo me, per dire che questa è meglio di Pity Needle, non devi aver mai giocato a Magic. A livello serio. Io la penso così. Quindi... Ma questo non è forte tutti i mazzi combo. Ni, nel senso che ci sono carte che costano 1. Gabbia costa 1. Pity Needle costa 1. Questa costa 2, ma perché devo pagare 2? Cioè, 2 è tanto. È tanto 2. 2 è il doppio di 1, ragazzi. Cioè, è il 100% in più di costo. Questo è un crusettote non... Chi la sta sopravvalutando, la sta paragonando a Pity Needle. Quindi, dato che questa è la classifica delle carte per me più sopravvalutate, io faccio quel paragone lì. E ho premesso, infatti grazie Giovanni, per il follow e per l'assist, che questa carta qui potrebbe avere senso per la seconda opzione. Questa tarda 3 turni, la spell che scomba. Quindi anche tu la stai leggendo per la seconda abilità. Che comunque, secondo me, anche lì niente di così eccezionale, perché ci sono carte proprio che ti vanno a togliere per 3 mana. Cioè, c'è cervello, per dire, cervello, per 2 mana, più 2 mana però è vero, ti va a togliere completamente la carta dal mazzo. Non lo so, per me è secondo posto. Per me è secondo posto. Per me è secondo posto fra le carte più... sopravvalutate di Modern Warzone 3 per quanto riguarda i story. E prima di vedere il primo posto, ricapitoliamo. Quarto posto, Primal Prayers. Credo non faccia nulla questa carta. Questa credo non faccia niente nulla in un formato come i story, dove esiste i maghi, esiste un sacco di gobba. Che fare un 4 mana passo, ok che non è passo perché puoi giocare qualche carta, però comunque, cioè, ne peschi queste due in mani iniziale, non sei contento. Nel senso, questa per me, quindi, quinto posto, carta più sopravvalutata. Quarto posto, Fanatic of Ronas, perché, cioè, questa proprio c'è scritto carta nuovisti qua. Non vedo il senso di giocare dei mana d'orca a 2 per quanto forti, in un formato come i story, magari mi sbaglierò. Se c'è una in cui forse mi sbaglio è questa, perché magari esce qualcosa di... Sugli altri sono abbastanza certo. Potrei comunque sbagliare, ma sono certo. Questa riconosco sia una carta forte. Ho letto 4 per in Monogreen Historic, assolutamente no. Cioè, per me no, ecco perché dico sopravvalutata. Però riconosco che possa essere una carta forte, ma scommetterei più sul no. Terzo posto, come hai detto, Nethergoif, per motivi già espressi. Questa carta, credo, non faccia assolutamente nulla in un formato senza le fetch. E anche in un formato con le fetch, deve dimostrare, mettiamola così. Secondo posto, Distruptor Flute, perché P.T. Needle è mille volte meglio, sempre. Secondo me è sempre P.T. Needle è mille volte meglio. E al primo posto, Sua Maestà, carta sopravvalutata, carta da carta nuovisti, carta inutile, questa carta non fa nulla, e vi fa capire una carta, vi fa capire che non fa niente, quando la gente, per giustificare il fatto che sia forte, si inventa degli utilizzi incredibili. Cioè, per giustificarvi che questa carta è forte, si inventa delle cose pazzesche, che devi costruirti un mazzo di merda per farla funzionare. La leggo, quando entra nel campo, quando leggo l'altra creatura, entra nel campo di battaglia di tutto controllo, se entra dal cimitero, o la cassi dal cimitero, tu puoi pagare un mana verde, quindi devi anche pagare in più. Se lo fai, lo esili, e diventa placewalker, e diventa gristo. Per carità, carta interessante, carta figa, carta, puoi farci le cose un po' for fun, ti puoi divertire, per carità. Però, è una win more, secondo me, nella maggior parte dei mazzi che fanno questo tipo di cose, lei non serve. è una win more. In più, per farla funzionare bene, devi fare una serie di cose fuori di testa. Per me, questa è la regina. Per me questa è la regina. Per me ha vinto. Grist, voracious larva, per me è la carta più sopravvalutata di Modern Horizon 3, quindi corona a lei, per questa espansione. Per me, questa è la carta più sopravvalutata. E lo capite, quando, a domanda diretta, ma sta carta che fa, la gente dice, eh però, se tu di primo te la metti nel cimitero, poi dopodiché, usi una carta per rianimarti, la paghi verde, hai usato 18 risorse per fare un, per fare questo affare. Quindi, là, vi rendete conto di quanto sia sopravvalutata. Ma è Rutz, è una win more, non serve questa Rutz, ma chi se ne frega, Rutz non ha bisogno di sta roba, secondo me. Quindi, non lo so, questa proprio mi dà proprio le vibes da carta, da carta nuovisti, da carta nuovisti. Quindi, questa è la mia, non farò la top 5, non farò la top 10, ma ho voluto fare la top 5 delle carte più sopravvalutate. Quindi, non so, ditemi, secondo voi sono pazzo, ho detto cose strane, qualcuno non è d'accordo, qualcuno è d'accordo, ditelo anche voi su YouTube, ragazzi, se ho detto delle cose strane, tra l'altro verrà smentito abbastanza sicuramente presto, però, questa è 3, quindi, ripeto ancora una volta, non è che sono scarse, o meglio, alcune sì, questa secondo me è scarsa, però sono sopravvalutate, quindi, non lo so, io la penso così, e qui top 5 è fatta, un Eter, che per me è azzeccata di sicuro, cioè, che poi costa pure un botto sta carta, quindi, cioè, però in historic, capito, io parlo di historic, cioè, non capisco, non capisco, mi sfugge qualcosa, tra l'altro l'escape è una cosa che li va contro, quanti anni avanti c'è questa playlist? Non so, escape è un qualcosa che li va contro, tra l'altro, quindi siamo proprio anche a quello. Allora, tu dici, Primal e Gris secondo me possono essere utilizzate, Primal forse è anche molto rotta, ci può stare, magari mi sbaglierò, io la vedo sopravvalutata, cioè, la vedo macchinosa, la vedo da build around, troppo da build around, troppo da build around, e quindi, sì, rivedo, l'unico, cioè, quella che sono in dubbio, cioè, quella che secondo me è una carta forte è questa, però non è vero che vai nei mazzi monogreen in quattro per, non ha senso, che cosa togli? Aluren in modern, giusto, Jacopo, comunque no, no, zanna nera, cioè, Govici che sia scarso, forse sia arrivato adesso, sopravvalutato, non scarso, sopravvalutato, giusto per godere, ci facciamo un giro tra la review di Teferi, Temporal, prima che uscisse Brothers World, ricordo che al tempo pensai come fai tu adesso, che fosse una roba da cartenovisti e fui preso per pazzo, grande calenda, iniziamo anche noi la battaglia sui cartenovisti, sì, sì, sono per historic, queste cinque sono per me, le cinque sopravvalutate per historic, timeless non entro nel merito, modern non lo conosco, quindi non mi, non mi cimento, eh no, ma magari infatti sbaglio, magari questa qui sarà fortissima, però per il momento, ma infatti comunque l'ho messa al quinto posto, non al primo, magari sbaglierò, però a me sembra molto, questa a me sembra sopravvalutata, Gristmilla, ho capito, ma c'è, c'è cosa togli? Una win more sta carta qua, secondo me, cosa togli? Non lo so, per me questa è la classica, questa è proprio a tutti i crismi per esserlo, leggendaria, mitica, devi fare un sacco di testo, cioè, proprio, devi fare un botto di cose e farla, devi avere un mazzo fatto apposta e farla funzionare, è proprio questa, non lo so, questa per me è la classica proprio carta, da carta a nuovi isti. Tamio? Tamio a me piace, per me Tamio piace, a me piace Tamio, a me piace molto, quella per me è al contrario, per me quella carta è forte, io credo che Tamio sia forte, adesso non lo so se vedrà gioco o non gioco, però non è così, stanno sopravvalutata, nel senso, questa è sopravvalutata, e di questa si parla molto di più di quello che si parla di Tamio, quindi non so, però, vabbè, comunque, di sicuro ci saranno, ho detto delle cazzate, ovviamente, molto probabile, ho detto delle cose un po' così, però vabbè, fa parte del format, mi sono sbilanciato, magari ho sbagliato, insomma, però, lo vedremo, Tamio si flippa, con un brainstorm, io mi sono ricreduto, tanto su Tamio, pensavo fosse un bait, visto a giocare, sia in Damage, che in Reaccess, da Mango è piaciuta, Chris è super hypato, più di quanto non sia, è quello, il concetto di sopravvalutato, no Jacopo, c'è l'hype in relazione alla forza, non che sia poi, se non le più scarse, che è, più scarse sarebbe un pass, più sopravvalutato, prossimo form, poi faremo la, fra un mese, facciamo la reaction, a questo video, esatto, fra un mese, facciamo la reaction, sono d'accordo, e poi si scoprirà che, questa, Tier Zero Explorer, questa, 4x in tutti i mazzi col verde del mondo, questo diventa staple, multiformato, in tutti i giochi, anche Yu-Gi-Oh, talmente forte, questa diventa, Pity Needle, non viene mai più usato, perché, solo Flute viene usata, e questa diventa, la carta più forte di Magic, arriva a costare, 180 euro, e poi, dopo un po', supera il Black Lotus, come valore, magari poi scopriremo questo, quindi, boh, vedremo, e poi,